...dei temi tra l'altro su cui noi incalzeremo con forza il governo Renzi, essendo noi parte della maggioranza e quello legato alle famiglie, no? E noi sappiamo che la famiglia è stato il più grande ammortizzatore sociale in questi periodi di crisi, è oggettivo. Soprattutto le donne. Sì, assolutamente sì. E uno dei temi drammatici che noi abbiamo, anche a Milano, è quello della natalità. Un paese non guarda il suo futuro e una città come Milano non può guardare il suo futuro se non mette nelle condizioni le famiglie, le donne, di poter generare, mettere al mondo i figli e non avere la preoccupazione e la paura di non sapere qual è il suo futuro. E quindi, asili nido è uno dei temi che riguarda il Comune di Milano, no? Quindi potrei fare tutte le politiche nazionali, ma siamo qui a parlare del Comune di Milano. Oggi ci sono lunghe liste di attese sugli asili nido. Il costo di un asilo nido a proposito di spending review e eccetera e di utilizzo delle risorse per un comune, un asilo comunale è di 900 euro. È il costo che il Comune sostiene e ci sono lunghissime liste di attese. Ci sono anche un'offerta, come sappiamo, Milano poi su questo è l'avanguardia, asili cosiddetti paritari, non privati perché a me non piace. Il costo di questi asili nido che il Comune sostiene quando dà una parificazione è 600 euro. Allora, una proposta concreta, se non abbiamo paura del pubblico o del privato, ma guardiamo alla domanda, cioè al fatto che noi dobbiamo permettere che gli asili nido siano accessibili, che le famiglie non facciano in lunghe liste di attesa, che chi non ce la fa possa avere la certezza, è semplicemente banale, ma questo spaventa magari, di fornire un voucher ad ogni famiglia che permetta con questi 600 euro di poter scegliere se andare in un asilo comunale piuttosto che in un asilo paritario. È un esempio.